La fiamma inaugura la 44esima camminata dell'amicizia. Morosa è la 82. Grazie a tutti. Grazie a tutti per l'evento per la solidarietà e per l'amicizia come è stata questa clara. D'altronde, essendo della zona è sempre molto bello partecipare a questa manifestazione. Come era quest'anno? Quest'anno è stata dura per me. Non so qual è stato il motivo, ma ho fatto molto più fatica degli altri anni, forse perché non c'era nessuno che mi stava dietro e mi dava il passo, allora ho fatto un po' più, ho dovuto tenere un po' più il mio ritmo e ho fatto più fatica. Però hai vinto anche quest'anno, qual è la tua arma in più? Sacrificio, l'allenamento è sacrificio. Poi questa è una gara che...